Avvia il tavolo di lavoro dedicato alla navigabilità del fiume Arno, dalla sorgente alla foce a scala di bacino. A inaugurare il percorso d'incontro, navigare l'Arno, antiche vie d'acqua, percorsi di futuro. Si tratta di riprendere in mano vecchi progetti che prevedono di poter navigare l'Arno per turismo e per diporto. Ovviamente nessuno immagini barche raccrociera, ma sicuramente c'è un mondo importante, fatto di operatori turistici, fatto di sportivi che ha bisogno di guardare in avanti e di riuscire a rendere navigabile l'Arno il più possibile per il maggior periodo possibile dell'anno. Questo sta nelle corde di quanto è stato fatto fino ad ora da Regione Comune e Consorzio negli ultimi anni, sta in quello che è un cambiamento che è in atto nella nostra città e nella nostra regione, su tutta l'asta dell'Arno, quindi una manutenzione sempre più diffusa e un Arno che viene percepito sempre più dai cittadini, non come un pericolo così comunque, ma come una risorsa che a volte, come sappiamo bene, può diventare un pericolo. Quindi godiamoci questo fiume che non dà una risorsa e quale modo migliore quello che non veder passare le barche renaioli o i kayak o i piccoli battelli che il Comune Pisa ha previsto di organizzare. È un modo diverso per vivere il fiume, un modo diverso per vivere le città ed è un modo diverso per accogliere quel turismo da tutto il mondo che vede nella Toscana un punto di riferimento.